Benvenuti nel canale Meli Made in Sud Come avrete letto dal titolo, oggi voglio parlarvi di un prodotto super efficace ma dal prezzo piccolo piccolo Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick Meli Made in Sud trattino official Vi metto qui di fianco il profilo Lo specifico sempre in infobox, il video come in questo caso non è né in collaborazione né un video sponsorizzato con il marchio di cui vi parlo Sotto di cui ho sentito parlare davvero pochissimo, almeno qui su YouTube, almeno sui canali che frequento, diciamo così Io l'ho acquistato diversi mesi fa, infatti è quasi terminato, quindi posso parlare con cognizione di causa Non ricordo quando, ma credo di averlo ricomprato all'incirca due mesetti fa Tenete presente che questo è il secondo tubicino che acquisto Infatti il primo tubicino l'ho acquistato a Napoli prima di fare ritorno a Catania Quindi per ricomprarlo mi è piaciuto tantissimo, è la dimostrazione che mi è piaciuto tantissimo Ho cambiato inquadratura così da mostrarvi qualche immagine che ho preso direttamente sul sito Astra Prima ho parlato di un prodotto che ha un basso costo Il prodotto, come potete notare sul sito, è prezzato 6,90€ Ha un PAO di 3 mesi e la formula è vegana Qui vi metto la lista ingredienti del prodotto Il formato è da 15 ml e come sottolinea l'azienda è adatto a tutti i tipi di pelle ed età Contiene acido ialuronico e peptidi L'acido ialuronico aiuta a levigare e a rendere più fresca visibilmente la pelle I peptidi riducono borse e occhiaie E' inoltre formulato con il 97% di ingredienti da origine naturale Ho sorriso buonariamente perché ogni volta che parlo di prodotti di cosmetica o prodotti di farmacia Puntualmente arriva qualche commento Che ben descrive la confusione che molte persone hanno Circa proprio o la qualità di determinati ingredienti O ecco la cattiva informazione riguardo al poter o meno utilizzare un determinato ingrediente Esempio, il primo che mi viene in mente sono i siliconi o i petrolati Come ho fatto anche privatamente Vi posto il canale di una persona estremamente esperta E' proprio la sua professione E sto parlando di Beatrice Mautino Vi metto il link in infobox e anche giù nei commenti Vi metterò il mio commento in evidenza Quindi sarà il primo commento che potrete leggere E vi linkerò il canale di Beatrice Lì sul suo canale trovate tantissimi, tantissimi, tantissimi video Che fanno chiarezza una volta e per tutte sulla cattiva informazione Veniamo a noi Melania perché ami questo contorno occhi? Sostanzialmente per due motivi Lo trovo molto idratante Senza però appesantire il contorno occhi Sono due cose differenti Un altro motivo per cui amo tantissimo questo contorno occhi E' che distende la pelle del contorno occhi Apro parentesi Nessun cosmetico o prodotto make up fa miracoli Per cancellare, per attenuare quasi completamente a lungo termine Le rughe o gli anestetismi Bisogna andare dal chirurgo estetico O si devono utilizzare dei farmaci Ok? Quindi il prodotto è buono Quando dico distende la pelle del contorno occhi È perché momentaneamente Grazie all'idratazione Riesce ecco visibilmente a rendere il contorno occhi più idratato e disteso Se volete avere effetto piallato 24 ore su 24 a lungo termine Serve solo il chirurgo estetico Se voi andate a leggere le informazioni Quindi la scheda prodotto sul sito Vedete che Astra lo definisce una crema antifatica Ma lo potete leggere anche sulla confezione Esattamente qui È una crema contorno occhi leggero Con base acquosa Una formula direi perfetta Per tutto l'anno Per chi vuole un contorno occhi idratato Ma non unto E secondo me è favoloso Proprio favoloso Per il periodo estivo Ad idratare la zona senza appesantirla E parliamoci chiaro Quando arriva Quando arriverà quel caldo pazzesco Sulla pelle Almeno per quanto mi riguarda Faccio fatica a tollerare qualsiasi cosa Tranne l'acqua termale Questo è estremamente tollerato dalla mia pelle Anche sotto le altissime temperature Per non parlare Delle temperature che abbiamo avuto l'estate scorsa Quindi agosto 2023 Luglio 2023 Qui a Catania Il fuoco È più fresco Sarebbe stato più fresco Questo contorno occhi di Astra Lo potete utilizzare o da solo Oppure in combo con un siero Magari con altre proprietà Ma è ottimo Anche se utilizzato da solo Infatti io lo utilizzo quasi sempre da solo Melania lo consigli? Sì assolutamente Perché leviga il contorno occhi Avete proprio visivamente la pelle idratata Distesa Leggermente sgonfiata Poi dipende dall'entità delle borse e delle occhiaie Io fortunatamente non ho né borse né occhiaie Quindi non so su un contorno occhi particolarmente segnato O borse particolarmente evidenti Come si possa comportare Ma in base alla lista ingredienti Se non erro Contiene una percentuale di caffeina Quindi anche secondo me per le borse o le occhiaie particolarmente marcate Può fare a caso vostro Magari come ho detto prima Lo andate ad addizionare ad un siero Che è particolarmente adatto A schiarire le occhiaie O a sgonfiare le borse Ma devo dire che è un ottimo prodotto Vi dirò che la notte ne applico una quantità abbastanza generosa E vado a formare proprio una sorta di impacco notturno Potete anche applicare il vostro contorno occhi In una quantità generosa Ma fate sempre attenzione a metterlo all'interno dell'occhio Degli occhi E poi potete applicare dei patch occhi specifici Magari per idratazione Sì sostanzialmente per idratazione Soprattutto se li applicate di notte Magari al mattino effettuate questo rito Utilizzando dei patch sgonfianti O maggiormente schiarenti Ma la sera potete applicare una quantità generosa di questo contorno occhi Più i patch occhi con definizione specifica idratazione E tenerli tutta la notte Ovviamente devono essere dei patch occhi molto morbidi Oppure se pensate di provare fastidio a tenere i patch occhi Poi dipende anche dalla qualità dei patch occhi Perché se li prendete di buona buona qualità Neanche si sentono Sia sul viso che sotto il contorno occhi Che è una zona estremamente delicata Ma potete semplicemente effettuare una sorta di maschera super super idratante Per il contorno occhi Oppure potete utilizzare siero più contorno occhi più patch occhi Io l'ho utilizzato stamattina E ho il contorno occhi estremamente riposato Io non sono più una giovanissima A fine gennaio ho compiuto 37 anni Mamma mia Quindi il suo dovere lo fa Lo fa Lo fa Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia E perché no Spero di avervi fatto conoscere un prodotto valido Che ha un prezzo decisamente contenuto Perché siamo al di sotto dei 10 euro Vi ricordo che mi trovate su Instagram Sul mio nuovo profilo Meli Made in Sud Trattino in basso Official Come sempre Un bacio Un abbraccio Un tarallino Dalla vostra Meli Made in Sud